Ultimo giro, Tom. Vuoi qualcos'altro? No, vado a casa. Senti, Tommy, prima che te ne vada, posso chiederti un piccolo favore? Certo, Luigi, che posso fare? Ecco, accompagnare mia figlia. Sara? A quanto ne so se la sa cavare benissimo da sola. Lei è in gamba, sì. Ci sono persone poco raccomandabili dalle sue parti, come dire, teppistelli, sai, cattivi ragazzi, che la infastidiscono, fanno i cascamorti. Sara, questo lo sa usare bene, ma non vorrei che dicesse delle cose che loro non gradiscono, cose spiacevoli. Però se tu l'accompagnassi, beh, quei teppisti si ricorderebbero che è la figliocia del Don. Non c'è problema, Luigi. È un onore. Grazie. Sara! Stiamo chiudendo! E lui che ci fa? Tom ti accompagnerà a casa. Davvero? Ehi, è solo lavoro. Così ti lasciano stare. Va bene, se ti fa stare più tranquillo. Ci vediamo domani. Prendo il cappotto. Io ti aspetto qui fuori. È tutto ok? Non ho bisogno di essere accompagnata. Dai, tanto stasera avremmo dovuto vederci. Sì, forse. Comunque puoi fregartene della sua opinione. Non capisci, Tom. A volte mi tratta come una bambina. Lo capisco. È protettivo. Ne ha passate tante. Perché noi no? Allora cos'è questa storia che rubi da mangiare? Beh, cucino io. Aspetta a me decidere cosa farne. Dubito poli voglia. Allora domani è la volta buona che la colazione se la prepara da solo. Puoi bussare tu alla porta. Io ho le mani occupate. Sara! È per me? Scusa, è un po' meno della volta scorsa. Basta e avanza. Per nonna sei un angelo. Il don non sopporta che il cibo vada sprecato. E tu? Tu devi essere Tommy. Sara ci ha parlato molto di te. Ah, davvero? Sei un pilota famoso, Tom. Tutti parlano di te. Già, ha ragione. Lo fanno. Ora ti lascio, se no ti entra il freddo, Juliet. Ci vediamo in chiesa. Ok. E buona serata. Notte. Buonanotte, Tom. Mamma, il tuo angioletto Sara è passata a trovarci. Hai fatto un bel gesto. Dici? Beh, qui in zona ci sono molti affamati. Già. Comunque, bella serata per passeggiare, eh? Non devi farti ammazzare a causa mia, Tom. Ci proverò. Tutto qui. Passi tutto il tempo con uno sciupa femmine come Sam Trapani e non hai trovato niente di meglio che bella serata per passeggiare. Perché? Non è bella? Sì, penso di sì. Per caso vuole dei fiori, signore? No, siamo a posto. Ehi, non merito i fiori. Quando mi permetterai di imitarti a un vero appuntamento, che non sia accompagnarti a casa per conto di Luigi, li avrai. Già. Se soltanto papà non mi vietasse di uscire, comunque credo che lo sappia. No, mi forza, non perdere tempo. decisamente. Decisamente. Conoscevo uno che produceva i nonici nel suo sabato. Abbiamo mangiato per settimane. Bisogna sapersi a mangiare. Bottiglie. E tutto il necessario. Il processo in gradova per qualche settimana. Li preparava per il giorno del ringraziamento, ma non arrivavano nemmeno a se nemmeno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Finirete tre metri sotto terra. È la vostra ultima occasione. Non ci spaventi. Sappiamo per chi lavori. Salieri da giovane sarà anche stato un pezzo grosso. Ma ora si è ramollito. È solo questione di tempo. Morello lo farà fuori. Non mi serve Salieri. E nemmeno altri. Non per questo. L'avete sentito? Mostraci che cosa sai fare, Damerino. Dove te ne vai, bel faccino? Non mi trovo. Billy ha ragione. Non proprio un bel volante. Stami alla ragia. Una bambola come te, stregata, con un bel pomadano. Ma lo sai che hai proprio due belle gambe? Dove ogni sei un uomo di là. In quella conoscenza di solo te, a te servono di loro. Non sono una che si lascia in costa di dire. Dammi! Ora tocca a me. Spero che tu te la cavi meglio dei tuoi amici. Ecco ti sistemato, figlio di puttana. Hai un buon gancio destro, devo dire. Sanguini. Andiamo su a casa mia. Do un'occhiata. Allora ti vuoi accomodare o aspetti fuori? Aspettavo di essere invitato. Non hai capito, campione. Controllo solo che tu stia bene. Siediti sul divano adesso e tira sulla manica. Prendo il set da cucito. Non sembra così grave. Vuoi che ti dia qualcosa? No, sto bene. Non devi fingere. Come? Lo vedo che ti fa un male cane, Tom. Se non vuoi ammetterlo, chiedi a Poli di rattopparti. Che cos'hai lì? Un omaggio del Don. Ancora un po'. Ok. Ce la farai a sopportare? Sì, ce la farò. Bene. Perché non voglio che la signora della porta accanto venga a lamentarsi per i rumori. Cerca solo di fare in fretta. Ci metterò il tempo che ci vuole. Se metto male i punti, resta la cicatrice. Davvero? Hai ricucito tanta gente? Solo mio padre. A volte capita che mia madre litighi con lui. Si è specializzato nello schivare i piatti. Così gli ha infilzato un bel ferro da maglia. Dritto nella mano. E perché? Perché era ubriaca o marcia. E anche gelosa. Fatto. Non è certo un capolavoro, ma servirà. La cicatrice che resterà mi farà pensare a te. Per stanotte dormi qui. Non ti lascerò vagabondare in giro mezzo sbronzo. Specialmente con quei tipi che ti danno la caccia. Ok, va bene. Per caso hai una coperta in più? No. E la caldaia è rotta. Non importa. No. 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 Grazie.